E benvenuti anche in questo nuovo episodio di Final Fantasy VII, c'è Berlus, dannata telecamera, si ferma! Ok, ora sono i panni del gatto King, se non sbaglio. E sono alla parte finale dove andrò con Vincent. La parte finale del gioco intendo. Ok, vado ad esplorare qui attorno. Ah, Kite si chiama, ecco. Non mi ricordavo più. Quanto pare c'è parecchie sorveglie. Ma guarda, un po', eh. Purtroppo non posso fare nulla contro le guardie, quindi dovrò... Dovrò aggirarle, si sa, mi scoprire. Vai, 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 come ho detto. Salta! Ah! Ah, sono vivo. Sono vivo! Non so come, sono vivo. Un attimo... Qua, tutto libero. Come ho detto. Siedemi la fuga. Via, 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 via. Cap, 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 cap. No. Non più dove salire, più dove stendere. Vai, 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 vai. Geronimo! Probabilmente potrei farlo in là. Ah, volevo andare in quel tunnel. Ok. Oh, cavolo. Qua la sorveglianza è ancora molto più dura di prima. Vai avanti. Vai, 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 vai. Nasconditi, nasconditi. Oh, cazzo. Ma perché così? Così stiga qua. Vai, cazzo, vai. Bella. Salta. Con il tubo. Se la posso fare? Se l'ho fatta, ragazzi. Sono mitico. Eh, credevate che morivo, eh? Invece no. Ah, qua c'è tutta la gente che è stata presa. Beh, non vedo come un gatto possa liberarle. Liberare tutti. Un barile. Un soldato. Oh, mi ricorda qualcosa questo. Tutto questo. Ok, se c'è qualcosa qui. No, non c'è nulla. Ok, appena guardia... La vedo. Un po' più in giusto posizioni. Guardo contro il barile della giustizia. Allora. Quindi aspetta un attimo. Non ancora. Non ancora. Adesso. Preso in pieno. Oh. Doppia sorveglianza. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Per così si trulla. Vado tutto bene. Molto bene. Eh? No. Cosa è quella gente? Eh? Ma che cazzo? Oh. Uh oh. 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 Omega. Eh, è Moodle, il Sibull. Oh, Dio. E abbiamo fatto conoscenza del penultimo dei cattivi. Quindi suo fratello è il capo. Bene, eccoci di nuovo con Vincent. Qua. Però io dire che posso finirla qua. Anche se potrei continuarlo, però preferisco finirla qui. E ci vediamo nel prossimo episodio di... Sì, di Castlevania. Di... Ideal Fantasy 7 Cerberus. Quindi, ciao!